Do you know the muffin man, the muffin man, the muffin man Do you know the muffin man who lives on Drury Lane Si ragazzi sono andata da Tiger Vi avevo detto nel video precedente che dovevo tornare perché dovevo andare in centro E quindi sono tornata da Tiger due volte La prima volta sono andata velocemente, tipo ho fatto un giro abbastanza veloce E la seconda invece sono stata tipo 8 ore e mezza da Tiger E questi che avete visto sono i risultati Allora vi faccio vedere subito la prima cosa che ho messo appena ho comprato Quindi qua ho lasciato solo la plastica, la confezione di plastica Ed è la cover per la fastidia per l'iPad Io ho un iPad vecchissimo, cioè il 2 E la cover per il 2 è introvabile Cioè ormai trovi soltanto più l'iPad Air oppure il 4 Adesso non so neanche quali sono gli usciti Resta il fatto che questo è introvabile Infatti l'ho pagata 15 euro che per me è un'enormità Perché io di solito le cover le compro online e ci spendo pochissimo Però la mia mi aveva lasciato e quindi avevo bisogno di una cover il prima possibile Per sostituire quella che si era rotta E se avessi dovuto comprarla in live avrei dovuto aspettare almeno 10 giorni E allora ho detto vabbè ok prendo questa E quindi l'ho pagata 15 euro Poi cosa ho preso? Questa è la prima volta che sono andata Ah ho preso questi qua Di cui uno un pacchetto l'ho già mangiato Sono gli edamame secchi E sembrano Non so se a qualcuno è già capitato di prenderli I ceci Quelli che vendono appunto nelle bustine così essiccati Hanno più o meno quel gusto lì Però sono edamame E dovrebbero essere pure edamame E quindi ne ho presi due Un pacchetto l'ho già mangiato E ne ho ancora due Probabilmente uno lo darò alla mia amica Perché a me non piacciono così tanto Invece a lei sono piaciuti da impazzire E quelli costavano un euro l'uno Poi ho preso Come al solito dividere in due A due euro questo stupendo portagioie Ditemi se non è meraviglioso Che ovviamente lo metterò in camera da letto Avendo tutte le cose di questo colore Non so se se l'ho fatto vedere bene Ha tutti questi intagli Con il pomellino tipo Come fosse un mega diamantone Carino E poi l'altra cosa che ho preso Sono questi due Porta No Questi tipo Sotto bicchieri Sotto tasse E ho preso uno La S di Silvia E poi ho preso l'end Perché non so Mi piaceva Volevo anche la bitberta Però ho detto no vabbè dai Facciamo le cose serie Visto che c'è Giobberto Sotto dappertutto Andiamo con la S di Silvia Poi ho preso Allora Questi devo dividerli con la mia collega Infatti devo dargliene due Sono i gancetti Quelli per Praticamente incrociare Il reggiseno Dietro la schiena Non so se si vede E praticamente serve Per quando uno Ha le maglie tipo Scollate all'americana O col Qualsiasi cosa Che serve Che tipo Non si veda Nella spalla Dietro La spallina La incroci Prende la incastri Qui in mezzo E appunto Riesci ad avere Come se avessi Il reggiseno incrociato Veniva un euro Ce ne è tre Infatti li dividerò Con la mia collega Poi ho preso Queste paperelle Che sono troppo carine Allora Se non ho capito male Cambiano colore A seconda dell'acqua calda Vedete quella viola Che poi diventa rosa Quindi non so che colore Diventeranno queste due Questa dovrebbe diventare rosa E io ne ho già Una grande Identica Che avevo preso Mi sembra Ad Amsterdam O comunque In qualche viaggio E ce l'ho Sopra la vasca da bagno Siccome adesso inizia l'inverno E il periodo Dei bagni Rilassanti Le ho volute prendere Non mi ricordo Quanto costavano Mi sembra Sui 3-4 euro Poi ho preso Questo che Cercavo da una vita Perché l'avevo visto Già l'anno scorso Che era ovviamente L'organizer però Del 2015 Quando sono andata Per prenderlo Non ce n'era più Da nessuna parte Quindi appena L'ho visto quest'anno Ho detto No vabbè Non aspetto di nuovo Che finisca Quindi l'ho preso Ed è carinissimo È l'organizer Da scrivania Con Inizio mi sa A dicembre Sì No Il primo gennaio Si inizia gli ultimi Tre giorni di dicembre Perché Quattro giorni di dicembre E niente È comodo Perché io mi scrivo I turni per lavoro Insomma È una cosa Utile Mi spiace che dovrò Aspettare tipo Due mesi Prima di iniziare ad usarlo Però Vabbè Intanto me lo tengo così Sopra la scrivania Che carino Lo stesso Poi ho preso Questo pochetto di cerotti Mi piace un sacco Anche la scatola Infatti quando finiro I cerotti La scatola La terrò Tipo Ci metterò magari I fazzoletti Tenendomeli in borsa È tipo fatta Con tipo Tatuaggi Old school L'ancora La sirena Lì il marinaio I bluebird Insomma Una cagata Sembra venissero Sui due euro Però cerotti uno In un modo o l'altro Li usa Allora Perché non usarli stupidi Stavo vedendo Non avevo visto Le fantasie Ci sono tipo Tutti i tatuaggi Non so se si vede Contro luce No Non si vedrà mai No Comunque sono tipo I cuori Con il lucchetto Il veliero La pin up Vestita da marinaio Sì questi sono Di questi qua Medi Sono così E poi ci sono Quelli Fatti A quadrato Che sono quelli Che io trovo inutili Come cerotti Però vabbè Ah questi sono trasparenti Con l'ancora Il lucchetto Eccetera Carini dai Non solo si taglia Ciao Il cerotto carino E poi mi tembo La scatola di latta Sinceramente Il motivo per cui l'ho preso Perché mi piaceva La scatola di latta Poi Siccome la volta prima Come L'ho preso in due volte separate Però La volta prima Questo non c'era Invece Ieri che ci sono tornata L'ho vista E ho detto No E poi Potevo fare un haul Senza Del rame Dell'oro rosa Potevo Ovviamente no E quindi Oro rosa Ho preso Questo porta Tovaglioli Che io uso Come Porta lettere Ne ho già uno Quello che avevo preso Dall'Ikea L'avevo preso all'Ikea E mi piaceva un sacco Come sa Perché è comodo Mi tengo tipo Le buste Le bollette Tutto quello che mi arriva Lo metto lì Solo che adesso Questo qua che ho È giallo E siccome per l'inverno Sto togliendo il giallo Lo sostituirò Con questo qua Di oro rosa Che è carinissimo E poi Ho preso questo Che è praticamente La versione grande Di quello che vi avevo Fatto vedere L'altra volta E che userò Per lo scopo Per cui avevo preso Quello Ovvero Come porta giornali Da tenere Davanti al divano E questo dovrebbe Essere un po' più comodo Perché appunto È più alto E ce ne sta di più Mi sembra che questo Costasse 8 euro E questo 3 Basta Finito Spero come al solito Di avervi tenuto compagnia E vi mando un bacione grande Ciao ciao